Marco Gottardi direttore del Parco del Delta del Po Veneto. Questa è la riserva di biosfera del Delta del Po riconosciuta nel 2015 dall'UNESCO. Nel 2017 il Parco del Delta del Po compie 20 anni di istituzione ed è un cambiamento epocale perché in questi 20 anni siamo passati dalla non consapevolezza del valore ambientale del territorio e del parco ha una grande richiesta di valorizzazione, quindi di vincolo come risorsa. Attraverso la digitalizzazione anche il superamento del gap di digitalizzazione, di infrastrutturazione che questo territorio ha, possano portare nel mondo l'idea che qui si può vivere meglio. Quali sono gli strumenti? Sicuramente la nuova tecnologia, quindi la infrastrutturazione di banda larga, la infrastrutturazione della consapevolezza e quindi della formazione, ma soprattutto il fatto che i giovani possano credere in una visione di sviluppo e di lavoro nel nostro territorio. Questo è il luogo in cui la felicità può essere uno degli obiettivi della visione di sviluppo e di lavoro.